Ben trovati carissimi fedeli, ascoltatori dello spazio dedicato al commento della parola di Dio di ogni giorno, a coloro che ci raggiungono via questo canale, pace e bene da parte del nostro Signore Gesù Cristo. Prima di iniziare invochiamo lo Spirito del Signore affinché ci aiuti a entrare nell'intelligenza della Sua scrittura, così da vivere pienamente questi momenti di comunione con la parola di Dio, di comunione con lo Spirito di Dio. Vieni Spirito Santo, vieni Dattore dei doni, illumina il nostro giorno, illumina il nostro momento di comunione con la Tua parola e faccia chiarezza con la nostra vita alla luce di questa parola ascoltata. Amen. Ora ascoltiamo la parola del giorno. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi ma è finito. «Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo legga. Soltanto allora potrà saccheggiarli la casa. In verità io vi dico tutto sarà perdonato ai figli degli uomini i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Ereo di colpa eterna. Poiché dicevano «è posseduto da uno spirito impuro». Parola del Signore Lode a te o Cristo». Cari amici Nel Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù si trova in mezzo a persone che respingono la sua signoria prendendolo per un amico di Satana. Siamo quasi alla fine del capitolo terzo di Marco dove all'inizio Gesù ha guarito la mano paralizzata di un uomo. La fola ha seguito Gesù e li ha scelto i dodici in vista dell'annuncio della parola di Dio. Ha sperimentato anche l'atteggiamento dei parenti che si sono lasciati prendere dal panico della gente d'intorno e volevano andare a prenderlo perché qualcuno diceva che fosse diventato fuori di testa. Noi ci rendiamo conto il bene operato da Gesù crea panico crea instabilità in mezzo a quelle che erano le convenienze l'ordine stabilito le leggi date. All'inizio possiamo dire insomma crea una certa divisione nella comunità. perciò quelli che avevano assistito all'operato di Gesù nella sinagoga cominciano a callugnarlo. Ecco la callugna opera del maligno che ha sempre come caratteristica la callugna di spostare lo sguardo verso quello che noi possiamo chiamare i dettagli le cose di poco conto quello quelle cose che non sono necessarie così da offuscare possiamo dire da mettere in cattiva luce ciò che è essenziale ciò che va ritenuto ciò che va appresato diversamente è quello che fanno la gente è quello che noi viviamo nell'esperienza della nostra vita e Gesù è vittima di questo malefato e la conseguenza davanti alla callugna è proprio quello di sacrificare sull'altare della menzogna l'unità di una comunità ma anche posso dire l'unità della persona umana perché lì il cuore balla il cuore vacila davanti a ciò che può ritenere giusto e ciò che può ritenere ciò che è ingiusto è chiamato a scegliere tra la verità della parola di Dio e la menzogna opera del maligno di Satana il cuore vacila come il cuore di ogni uomo di ogni uomo del nostro tempo davanti alle lusinghe del mondo si chiede qual è la verità qual è la strada a prendere Gesù è posseduto o Gesù parla deve essere seguito su quello che sul messaggio di amore e di pace che annuncia carissimi fedeli noi siamo proprio davanti a questo bivio siamo chiamati a scegliere il grande paradosso di questa lettura è proprio questo Gesù che è ritenuto come qualcuno che è posseduto ma alla fine ci rendiamo conto invece di essere lui posseduto sono gli uomini a essere posseduti perché il maligno come si dice nel Vangelo entra proprio nel cuore dell'uomo confisca la tua libertà ti catena e non ti permette più di essere libero uno delle più grandi trovate del maligno è proprio quello di distruggere l'unità della comunità l'unità della persona umana così davanti a questa divisione del cuore del cuore umano davanti alla divisione del corpo della comunità parrocchiale la comunità umana possa facilmente operare e trasmettere il suo spirito ingannatore allora l'uomo è chiamato a essere attento a lasciarsi prendere da questa da questa forza che oscura la sua capacità ad accogliere il messaggio del Vangelo la grande colpa dell'uomo è lasciarsi attirare dalle lusinghe di questo mondo perché il diavolo il maligno esiste e opera nel cuore delle nostre famiglie nelle nostre comunità nelle nostre società talvolta in modo subdolo in modo talvolta ludico nel gioco nessuno se ne accorge trasmette il suo spirito e divide le nostre comunità siamo chiamati a essere attenti a essere attenti a questo la vita umana come la nostra chiesa è come una barca come diceva Papa Benedetto XVI dove c'è il Signore quella barca non è nostra è la barca del Signore importante per noi ogni momento quando avvengono queste difficoltà questi momenti di di disturbi dello spirito del maligno di sapere che in quella barca c'è il Signore e basta gridare e questa questo oggi vogliamo gridare verso il Signore questo verso Cristo luce del mondo sole di giustizia e vera stella che guida il mondo verso le mete sicure l'invito nostro in questo giorno Santissimo è di rimanere fisso sul messaggio della verità di Cristo sapendo che ciò che può dare forza consistenza futuro al cammino della nostra vita e delle nostre comunità è proprio l'unità l'unità della persona umana l'unità del corpo umano l'unità della comunità dei credenti l'unità delle nostre società verso i valori essenziali che superano il nostro spazio che sfidano il nostro tempo che sono valori eterni noi vi auguriamo una bella giornata pace e bene a tutti sia lodato Gesù Cristo ci affidiamo al Signore affinché Lui in questo giorno sia sempre con noi il Signore sia sopra di te per proteggerti davanti a te per guidarti dietro di te per custodirti accanto a te per accompagnarti dentro di te per benedirti nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti